Sono andati nel Salento con un po' di insieme a Porta Ronda. Sono andati con la mia moglie, 15 ragazzi per basket. E abbiamo un'idea naturalmente. 5 giorni su 15 parca. Con i compagni di Luca, Luca però è buro grande. Che bello! Non ti avrei fatto il salito Disco, sempre lì? Ma come ha fatto? Non ho fatto l'ultimo gioco. Il salito va nel posto vicino dove stanno i cascino. Guarda! 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 Quattro mesi sono andati con i cosi, adesso visce questo. Ciao! Ciao!